Nel 2018 ho scritto Giacomo Casanova la sonata di Cuori Infranti. Volevo dedicare alla Venezia del Settecento un grande romanzo d'avventura e volevo vedere il più grande sedutore della storia per la prima volta in una situazione particolare, cioè innamorato perdutamente di una donna. Ebbene, questo romanzo è uscito, ha avuto un notevole successo e poi è accaduto che dopo poco tempo mi ha chiamato Red Canzian, voleva parlarmi, ci siamo incontrati e lui mi ha raccontato della sua grande passione per questo personaggio e di come stesse cercando una storia per realizzare un'opera che già occupava, come dire, i suoi pensieri da un certo tempo. Ebbene, questo doveva essere proprio la storia giusta perché subito dopo il nostro incontro Red ha cominciato a scrivere delle musiche straordinarie, dei pezzi bellissimi che hanno dato vita ai miei personaggi e nelle cui atmosfere mi sono pienamente riconosciuto e quindi adesso abbiamo un'opera che non vediamo l'ora di portare in scena.